ciao amici quante volte abbiamo sentito una mele al giorno toglie il medico di torno fin da bambini vero ma perché si dice è solo una credenza popolare oggi scopriamo i motivi scientifici e anche perché si può dimagrire con la dieta delle mele se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video bello ma per dimagrire la mela è detox quindi dimagrante l'eccesso di tossine è il primo ostacolo al dimagrimento per questo depurarsi a volte è sufficiente per perdere i primi chili ecco un esempio di dieta della mela consigliato dai ricercatori che si può seguire per due tre giorni prima di iniziare un programma dimagrante come sempre consiglio di affidarsi a un esperto se volete dimagrire con la naturopatia ci sono i miei coaching personali il link è in descrizione ora vediamo la dieta della mela per dimagrire si basa sul potere saziante drenante e detox delle mele che abbassano il colesterolo riattivano il metabolismo e combattono l'effetto yo-yo giorno 1 4 o 5 chili di mele a seconda della costituzione e dell'appetito idratarsi bevendo almeno due litri e mezzo di acqua e muoversi in modo leggero giorno 2 aggiungere una o due confezioni di yogurt bianco magro meglio se di soia giorno 3 aggiungere verdure crude e altri tipi di frutta ma sempre di un solo tipo per volta per evitare gonfiore e fermentazione completati tre giorni si può mantenere un giorno alla settimana a base di mele per avere i benefici detox di questo frutto più a lungo per vedere tanti altri video come questo iscrivetevi al canale è facile con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto la mela è ricca di polifenoli potenti antiossidanti antitumorali antinfiammatori i ricercatori della fondazione edmund bar di san michele dell'adige trento in collaborazione con il consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno pubblicato uno studio sulla rivista food research international nello studio viene dimostrato l'effetto positivo della mela sulla salute soprattutto dell'intestino e dell'apparato digerente mangia sano e dimagrisci